Guardatevi attorno ragazzi, se il vostro cortile è ok, guardate un po' più in là. Al di là della vostra scuola, oltre i confini della vostra città, guardate lontano, perché il mondo è uno. I problemi degli altri sono i vostri, ma lo sono anche le soluzioni. Condividiamo lo stesso percorso e tutti cerchiamo un futuro migliore. Cambiate le cose che non vi piacciono, cominciate adesso. Oggi voglio utilizzare questo Instagram per una cosa utile. Ognuno di noi può diventare protagonista di un cambiamento. Non sapete da dove iniziare? Provate con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, indicati dall'ONU. Non sapete cosa sono? Date un'occhiata e scegliete quello che sentite più vicino a voi. Guardate cosa hanno fatto Sara, Porgo, Jamie e ragazzi di pillole di parole. Nessuno è solo su questa terra e il cambiamento è contagioso. Fate gruppo, unitevi al cammino di chi è già partito. Ho dato un'occhiata a Start the Change. Collaborate con la vostra scuola, le associazioni di volontariato, gli enti pubblici, i comuni, gli organismi europei. Oppure consultate gli esperti, proponete soluzioni, informate i vostri vicini di casa, manifestate in piazza e andate sui giornali. Le strade che portano al cambiamento sono diverse e inaspettate. Insieme possiamo essere una grande squadra. Progetto Mondo Mlal e Start the Change sono a vostra disposizione. Siamo presenti con attività in Europa, Africa e America Latina. Venite a conoscerci. Cambiamo il mondo insieme. Cambiamo il mondo insieme.